Questo tipo di generatore elettrico astrofinio prende il nome dal costruttore inglese Edward Nern. È costituito essenzialmente da un cilindro di vetro che può essere messo in rotazione e da due conduttori cilindrici di ottone montati su colonne di vetro. Ad uno di questi conduttori è collegato un cuscinetto di cuoio imbottito di crine. All'altro una serie di punte metalliche che sfiorano il vetro. A ciascun cilindro è collegata un'asta mobile di ottone.